ciao e benvenuti a questa sessione formativa sul business model canvas uno strumento che consente di mappare fotografare il modello di business di un'organizzazione questo cosa significa significa capire come sta funzionando la nostra attività che sia di freelance che sia di un'azienda ci aiuta a capire quello che sta succedendo all'interno della nostra realtà anche in funzione di ciò che sta impattando sull'esterno in questo momento storico in questi giorni stiamo vedendo tante realtà che si sono trovate costrette a cambiare qualcosa a fronteggiare un forte cambiamento esterno come quello dell'impatto che ha avuto il colore il coronavirus noi in primis ci siamo dovuti rinnovare abbiamo dovuto velocemente cambiare le cose proprio per fronteggiare e per far fronte a quello che è stato questo cambiamento esterno entriamo nel dettaglio tra poco del contenuto con le delle slide che noi utilizziamo tipicamente per spiegare questo questo strumento vi auguro una buona lezione e qualsiasi dubbio domanda ricordatevi che sul nostro sito nella sezione happy to help potete trovare i nomi e le competenze dei nostri volontari che saranno pronti a fare coaching affiancamento consulenza insieme a voi ciao e buona lezione benvenuti a questa lezione sul business model design e il business model canvas iniziamo subito a chiarire un po il motivo per cui ha senso parlare di queste cose qual è il perché che ci ha spinti da un lato a erogare questa sessione sicuramente oggi ma in generale come mai può aver senso parlare di questi strumenti di sicuro il motivo principale è che il mondo non solo è cambiato ma è in continuo cambiamento in questo momento storico noi vediamo una grandissima evoluzione dal punto di vista delle tecnologie c'è una velocità d'impatto delle tecnologie che è dirompente c'è sicuramente una competizione in tanti mercati in cui è inaspettato ci sono anche dei competitor che prima non ci aspettavamo eppure ci troviamo nel nostro mercato abbiamo una nuova generazione anzi abbiamo nuove diverse generazioni che diventeranno i clienti e i consumatori di domani o i lavoratori di domani e indubbiamente abbiamo un cambio delle abitudini fino a qualche anno fa mai ci saremmo immaginati di fotografare un piatto a un ristorante oggi invece è diventata una delle cose più frequenti che si possono notare quando si esce a cena o addirittura quello che in questo momento sta succedendo a causa proprio del coronavirus stiamo cambiando alcune cose che forse a tendere potrebbero diventare nuove abitudini potrà essere normale in un aeroporto eventualmente farci provare la temperatura da uno scanner non lo possiamo sapere se diventerà una nuova abitudine però sta succedendo sta succedendo che nel mondo del business queste cose stiano comunque e abbiano dato degli impatti ci sono trasporti che sono cambiati che sono evoluti il mondo dei taxi ha visto il mondo dirompente di Uber che poi è stato più o meno bloccato con delle manovre più o meno discutibili ma poi in realtà ci sono altre diciamo altre iniziative come my taxi ora divenuta free now che hanno fatto capire come è cambiato anche il mondo dei trasporti è cambiato il mondo della consegna oggi con amazon riceviamo a casa la nostra spesa oggi in particolare se non vogliamo uscire di casa a causa del coronavirus possiamo ricevere a casa la nostra il nostro pasto la nostra la nostra spesa di sicuro tutti conoscete il fenomeno della subscription sui vari canali in questo momento storico disney sta lanciando la sua piattaforma disney plus a una spesa che rasenta i 60 euro all'anno per avere accesso a un sacco di contenuti questo ha avuto un forte impatto su tanti attori all'interno di quell'industria se guardiamo il mondo delle industrie i controlli di qualità oggi vengono fatti attraverso il riconoscimento visuale quindi delle telecamere altamente performanti che ci dicono se un prodotto è conforme o meno a quello che sono gli standard qualitativi abbiamo il machine learning che si utilizza in ambito di manutenzione quindi i macchinari oggi sanno già come stanno performando e dicono loro stessi quando è meglio cambiare un prodotto o meglio cambiare un pezzo di ricambio o meno abbiamo tutto il mondo delle chat bot e dei customer service quindi abbiamo tutto il mondo dell'automazione attraverso la tecnologia di questi strumenti che abilitano anche alcune me alcuni meccanismi di contatto con i consumatori che prima non c'erano l'intelligenza artificiale che ci aiuta nella fase nella fase di vendita nella fase di predizione sono tutta una serie di innovazioni in questo caso molte tecnologiche che hanno cambiato modo di fare business e se noi guardiamo nel nostro piccolo al mondo della consulenza della formazione in questo momento in questi giorni sta vivendo un forte cambiamento noi siamo abituati a vivere l'esperienza con i nostri clienti essere dai clienti essere al fianco dei nostri clienti ma gioco forza ci troviamo a dover cambiare anche noi qualcosa perché forse sta cambiando oggi sicuramente non lo sappiamo se questa cosa sarà vera anche domani ma sta cambiando anche forse il modo di fare consulenza e formazione tutto questo ci fa capire che davvero il mondo è cambiato e sta continuando a cambiare questo ci porta a fare una riflessione cito einstein che spiega come i problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati questo significa che se la mia mentalità se la mia organizzazione se le persone che stanno oggi vivendo quel problema non cercano di cambiare mindset quindi impostazione mentale faranno molta fatica a risolvere quel problema perché quel problema è nato in quel contesto o meglio ancora come dice nick de mei che è il co-founder di board of innovation una delle società di consulenza che seguiamo in modo molto attento non si può guardare al futuro con gli strumenti del passato questo significa che dobbiamo essere in grado di aprirci a dei nuovi strumenti che ci consentono di fare cose che prima forse non riuscivamo a fare o facevamo in modo molto meno efficace questo fa partire tutto un filone che è quello della business model innovation cioè l'innovazione del modello di business però la prima cosa da chiarire è che cosa sia il modello di business e qui cito alexander osterwalder il lo scrittore di business model generation che è stato il libro fondamentalmente che ha dato vita a tutto questo filone e lui diciamo per portare semplicità prima del suo testo siamo nel 2010 2011 non c'era una chiara definizione di modello di business lui arriva in modo molto diretto e dice signori il modello di business descrive le modalità attraverso la quale un'organizzazione crea distribuisce e cattura valore creare valore significa partire da un per esempio da una materia prima e trasformarla trasformarla e poi buttarla sul mercato e il valore a cui io vendo questa materia prima trasformata non è la sommatoria dei costi perché altrimenti io non avrei del margine e quindi il valore che viene distribuito tendenzialmente è maggiore di quello che viene creato e questo consente quindi di catturarne una parte ed avere una marginalità partendo da questa definizione riusciamo a capire meglio che cosa si intenda per modello di business quindi è veramente il meccanismo di funzionamento di un'organizzazione sia un'azienda o un'attività di libera professione di un freelance questo diciamo il conoscere il modello di business ci porta a dover rispondere e saper rispondere ad alcune domande strategiche che un imprenditore un manager un professionista non può non prendere in considerazione la prima è se sappiamo comunicare in modo chiaro e sintetico il valore della nostra azienda in modo molto sintetico significa che io immediatamente riesco a capire che cosa mi stai dando che gli altri non mi possono dare o che gli altri non mi sanno dare in egual modo questo si porta dietro il concetto di value proposition o meglio ancora di unique selling proposition cioè quella proposta di valore che ti rende unico perché scelgo te e non scelgo un altro competitor se io non sono abile nel comunicare in modo chiaro questa cosa sarà difficile che i miei potenziali clienti la possano capire questo accade molto spesso soprattutto nelle piccole e medie imprese dove per piccole e medie imprese intendo l'ottanta per cento del tessuto imprenditoriale del nostro paese si parla con imprenditori e venditori che semplicemente riduci dagli anni 90 2000 in cui le vendite sono sempre state un po più semplici di oggi alla domanda perché ti acquistano e la risposta è ci hanno sempre acquistati perché noi siamo siamo bravi nel nostro lavoro ecco forse questa risposta non è più sufficiente o quantomeno rischia di non esserlo la seconda domanda è una volta che abbiamo capito quello che sappiamo veicolare è capire se ci sono dei punti critici nella catena del valore questo per esempio è un magazzino di amazon questo il magazzino l'attività di delivery l'attività di shipping di spedizione è un punto critico nella catena del valore di amazon ed è molto meno di valore per esempio avere un sito web un e-commerce sexy dal punto di vista grafico l'e-commerce deve essere veloce rapido e poi io devo essere efficace nella gestione della delivery perché altrimenti rischierei di venire a meno a quella promessa che è quella che ho comunicato nel punto precedente una volta che ho capito il valore una volta che ho identificato eventuali punti critici devo anche essere in grado di saper raccontare il meccanismo di funzionamento del prodotto la semplicità se un se il valore che io sto acquistando da te è anche l'esperienza tu me lo devi saper raccontare perché altrimenti questa cosa non viene percepita fino a quando io non vivo quell'esperienza e quindi devo essere consapevole di uno che esista e due comunicarla in modo corretto il quarto punto è quello a cui spesso e volentieri tanti non pensano o meglio sempre torno sulla torno sempre sull'affermazione di prima come mai ti comprano ci hanno sempre acquistati e alla domanda chi sono i vostri clienti la risposta è quella del leggere l'anagrafica che c'è sul sul gestionale o sul crm non è quello che si intende cioè capire chi sono i clienti e capire quali sono quelle entità per le quali noi sappiamo generare un determinato valore e quel valore poi loro saranno disposti a pagarlo perché noi siamo bravi nel veicolare quel tipo di output una volta che ho capito chi sono allora poi devo anche pormi la domanda del capire come parlare in modo chiaro e mirato a questi clienti e soprattutto a quelli che oggi non sono nostri clienti e che potranno esserlo quelli che in gergo si chiamano prospect se io non riesco a capire chi sono le persone con cui sto dialogando è anche difficile capire quale deve essere il giusto ton of voice tono di voce che io devo utilizzare con loro se voi oggi doveste immaginare di fare un colloquio ad una nuova risorsa da inserire e la persona che avete davanti è un millennial che linguaggio dovreste usare perché lui dovrebbe venire a lavorare o lei dovrebbe venire a lavorare nella vostra azienda e questo è un è una domanda che spesso volentieri non ci non ci sappiamo porre o meglio non ci poniamo e non andiamo ad elaborare una risposta sembra complicato ma in realtà la buona notizia è che a tutte queste domande si può rispondere con un solo strumento che è il business model canvas puramente letterale la parola canvas vuol dire canovaccio quindi è un un unico layout un unico spazio dove si cerca di dare risposta a tutte queste domande e la forma dell'oggetto è quella che vedete adesso nello schermo è composto da diversi blocchi partiamo nella lettura dalla parte sinistra quindi ci sono i partner ci sono le attività ci sono le risorse ci sono i costi che devo sostenere c'è l'offerta ci sono i canali ci sono le relazioni ci sono i customer segment e c'è poi la parte di guadagno questo è una velocissima overview poi ci entriamo in dettaglio in ogni singolo blocco prima di entrare nei blocchi vi faccio vedere come questo modello già solo in modo visivo ci consenta di capire come è strutturato il nostro la nostra organizzazione sulla parte sinistra si parla di infrastruttura come io faccio a generare quello che poi il mercato andrà ad acquistare è quella parte famosa di creazione di valore generazione di valore poi c'è una parte centrale l'offerta che è quella che racconta fondamentalmente che cosa io sto proponendo al mercato quale tipo di valore io offro alle persone che poi diventeranno miei clienti e tutta la parte del mercato del chi è sulla parte destra la parte bassa quindi la parte sottostante al modello è quella che racconta la sostenibilità del nostro progetto del nostro business quindi la parte di costi e ricavi questo è una fotografia generale di quello che è il concetto di business model canvas entriamo ora nello specifico guardiamo la parte destra che è la parte più rilevante perché è quella a cui tipicamente l'imprenditore e anche il professionista a volte non pensa perché si concentra sulla parte sinistra sulla parte di risorse abbiamo un tornio che ha costato un sacco di soldi abbiamo un macchinario su cui abbiamo investito un sacco di un sacco di denari abbiamo delle persone che sono altamente competenti ma poi ci si dimentica di chi sono i nostri clienti perché vengono da noi e attraverso quali canali noi possiamo catturarli ed ingaggiarli la parte principale la parte primaria scusatemi è quella dei customer segment qui dentro sicuramente ci sono i clienti ma non solo loro non ci sono solo quelle entità che tra virgolette pagano per un nostro servizio ma qui dentro ci sono tutti quei gruppi di persone organizzazioni che ricevono da noi del valore un'organizzazione deve prendere una decisione consapevole scegliendo quali segmenti servire e quali segmenti ignorare perché potete immaginare per esempio se domani noi dovessimo decidere di aprire un ristorante non possiamo immaginare che tutti possano essere i nostri clienti ma faremo una selezione dei nostri clienti in funzione del tipo di business che noi vogliamo lanciare sarà un ristorante fast food o sarà un ristorante con una cucina ricercata sarà un ristorante che vorrà avere persone che rimangono al tavolo due ore per chiacchierare e discutere o sarà un ristorante dove vorremmo servire più piatti ad un costo magari inferiore ma avendo più turni sui tavoli queste sono tutte domande che ci dobbiamo porre in funzione del progetto di business che che stiamo che stiamo mappando che stiamo fotografando ci possono essere e ci sono sempre diversi customer segment e posso segmentarli posso suddividerli in funzione ai bisogni ai comportamenti ai canali che io posso raggiungere alle relazioni ai margini e così via per esempio se facciamo torniamo sull'esempio del ristorante io posso avere sia il cliente alto spendente che mangia più di una portata e si concede anche il dolce e poi posso avere il cliente che viene solo una volta e vuole venire a fare bella figura con la ragazza con la quale ha deciso di uscire per la prima sera sono due tipologie di clienti differenti il primo è un alto spendente che magari è abituario il secondo invece è un cliente one shot che viene solo per un motivo di branding di farsi vedere bello che porta una determinata un determinato ospite all'interno di questo ristorante è un esempio banale ma che fa capire come già due diversi customer segment possono avere due esigenze differenti il primo potrà anche essere in una zona più o meno caotica mentre magari il secondo desidera avere un tavolo più riservato per poter avere una cena più tranquilla e queste cose un buon ristoratore le dovrebbe le dovrebbe immaginare le dovrebbe pensare se quello è il loro tipo di customer segment e qui dentro dobbiamo ricordarci che non c'è solo il cliente ma ci possono essere soprattutto nel mondo industriale tre tipologie fondamentalmente di attori tipicamente chi riceve il valore che noi stiamo veicolando chi paga il valore che noi stiamo veicolando e chi decide il valore che noi stiamo veicolando nel caso in cui domani mattina io decidessi di andare a comprarmi un paio di jeans chi riceve il valore del jeans ovviamente io chi paga il jeans ovviamente io e chi decide il jeans sono ancora io e in questo caso le tre entità coincidono ma facciamo un esempio lievemente più complesso ma non troppo perché a tutti è capitato nel caso in cui voi doveste cambiare la caldaia di casa se vi è capitato provate a pensarci bene chi ha chi riceverà il valore generato dalla caldaia di casa tendenzialmente tutta la famiglia chi pagherà la caldaia tendenzialmente una persona all'interno della famiglia o comunque se vogliamo ancora una volta tutta la famiglia ma realmente chi decide quale caldaia installeremo a casa difficilmente la decide la famiglia perché spesso e volentieri chi decide la caldaia è l'installatore e a quel punto se io sono un'azienda che produce caldaie io non posso ricordarmi solo la famiglia come customer segment perché sono coloro che pagheranno ma devo identificare anche quelli che in gergo si chiamano influencer oggi nel mondo del social hanno acquisito anche una voce ancor più importante come come nomenclatura ma fino a qualche anno fa gli influenzatori erano coloro che all'interno di un modello di business potevano portare un potenziale cliente a una scelta piuttosto che un'altra allora io per esempio sono un'azienda che produce caldaie decido di fornire o offrire del valore anche a un installatore affinché lui possa veicolare la mia caldaia invece che quella di un mio competitor che cosa posso dare all'installatore posso dare delle percentuali sulle vendite delle caldaie e questa è una risposta abbastanza banale ma posso per esempio abilitare l'accesso ai ricambi in via preferenziale o meglio ancora posso progettare la caldaia affinché la sostituzione delle parti di ricambio sia più semplice o posso progettare i libretti di manutenzione affinché possono essere più fruibili dal tecnico dall'installatore quindi ci sono tutta una serie di potenziali valori che l'installatore potrebbe apprezzare e quindi da quel punto di vista lui potrebbe veicolare la nostra caldaia invece che quella di un competitor è molto interessante identificare questi customer segment perché sono quelli che possono anche generarci maggiore business con un installatore io posso prendere più famiglie mentre una famiglia ovviamente acquisterà una singola caldaia una volta fatto una volta identificato il customer segment si passa alla value proposition la value proposition è fondamentalmente l'offerta è il motivo per cui le persone il customer segment vengono da noi e abbiamo visto come prima per esempio una famiglia all'interno della value proposition della vendita di una caldaia c'è l'acquisto della caldaia quindi la value proposition è perché io sto comprando da te la caldaia perché mi stai offrendo una caldaia performante che consuma poco che può essere installata in una in una zona poco diciamo poco grande perché ha delle dimensioni compatte e così via e in più se non ci siamo dimenticati dell'installatore dovremo identificare delle value proposition anche per lui come per esempio prima parlavamo dell'accesso ai ricambi in via privilegiata delle scontistiche particolari delle man dei manuali più facili da consultare e così via in questo frangente quindi in questo building block così si chiamano questi blocchi è importantissimo identificare quella che in gergo vi dicevo prima si chiama la unique selling proposition usp come leggete in questa slide e qui è rilevante spiegare perché io devo scegliere te e non un competitor è veramente molto interessante fermarsi a fare questa analisi perché spesso volentieri la risposta è sempre quella del beh ma noi costiamo di meno se davvero questa fosse la scelta credetemi sul mercato non dovremmo trovare tutta una serie di prodotti e tutta una serie di attori con dei prezzi altamente poco concorrenziali fate una riflessione perché è davvero molto importante questo aspetto come nella parte di customer segment avevamo una divisione di chi paga chi decide chi riceve anche la value proposition in realtà ha delle distinzioni nel senso che sicuramente all'interno della value proposition c'è il prodotto ed il servizio ma c'è anche la promessa qui di solito faccio sempre una battuta durante le lezioni e chiedo la vazza un espresso e la risposta all'inizio non è così immediata o meglio la risposta immediata o la vazza o un espresso ma quando chiedo il perché non è così immediato e lì dietro non c'è un tema di prodotto o di servizio ma c'è un tema di promessa che cosa mi sta dando in termini per esempio di posizionamento sociale il fatto di avere un espresso e non la vazza o viceversa sono tutte riflessioni che sono utili a capire perché un cliente dovrebbe scegliere noi oppure no una volta fatta la parte di customer segment e di value proposition si passa alla parte di revenue stream la parte di revenue stream è tendenzialmente il meccanismo di ricavo che io posso avere dai customer segment i quali acquistano da me la value proposition quindi vedete che c'è un legame tra questi tre blocchi che qualcuno compra qualcosa pagandomi in questo modo attenzione nel revenue stream non stiamo parlando di bonifico riba pagamento 60 giorni ma sono proprio i modi con cui io vado a ottenere dei ricavi da qualcuno facciamo un esempio molto banale domani decido di andare ad acquistare un nuovo elettrodomestico il nuovo elettrodomestico fino a qualche tempo fa il rivenditore me lo poteva vendere dava lo scontrino io portavo a casa l'elettrodomestico e basta in quel caso la revenue stream era one shot quindi una singola revenue stream che è acquisto di prodotto in realtà da diversi anni a questa parte quando voi andate ad acquistare questo prodotto molti vi aggiungono anche un qualcosa di accessorio che è per esempio la garanzia o vi possono aggiungere il servizio di smaltimento dell'elettrodomestico usato o se facciamo se spostiamo addirittura l'attenzione sull'automobile immaginando che l'acquisto dell'automobile visto che non rientra nelle revenue stream il leasing o il finanziamento ma è semplicemente l'acquisto dell'automobile quindi immaginiamo di andare acquistare l'automobile e fare un unico bonifico alla concessionaria se così fosse la revenue stream sarebbe ancora in un caso one shot ma che cosa ci potrebbe dire la concessionaria e in molti lo fanno io ti vendo oggi la macchina e quello è stata una vendita non ricorrente è stata una vendita unitaria però se torni da me a fare i tagliandi io ti allungo la garanzia da due anni a quattro anni per esempio in questo caso ho aggiunto una seconda revenue stream che è quella continuativa ricorrente legata ai tagliandi questo fa capire come in realtà io possa aumentare il numero di revenue stream e tanto più le aumento e tanto più sono continuative ovviamente tanto meglio è per noi oggi in questo momento storico si sta assistendo in modo molto importante al concetto di subscription di abbonamento e anche quello per esempio è un cambio di revenue stream per cui passo dall'acquisto unitario una stampante ormai negli uffici non si acquista più si ha noleggio a un acquisto appunto ricorrente nel tempo questi sono i primi tre blocchi e sono i tre blocchi principali sono i tre blocchi senza i quali credetemi non ha senso andare avanti a chi vendo che cosa vendo e come guadagno una volta svolto questo lavoro ci si muove sui canali dove trovo queste persone dove trovo i customer segment come fanno i customer segment a sapere che esisto e come fa il valore che io sto proponendo loro ad arrivare ai customer segment quindi qui i canali hanno una duplice funzionalità da un lato quella comunicativa e qui c'è tutta la parte di marketing e comunicazione ovviamente e dall'altro c'è quella di trasferimento di valore significa come faccio io a trasferire quello che c'è qua ai nostri customer segment è come se fosse un tubo da cui passa la value proposition per esempio se voi doveste andare ad acquistare un computer della apple in un apple store lo store fisico fatto come ha fatto con l'architettura che ha e con i servizi che ha è un canale ed è un canale che genera valore perché il valore di essere inquadrato come un potenziale cliente apple tant'è che le vetrine sono tutte trasparenti da fuori io posso vedere che tu sei all'interno e stai forse acquistando un prodotto da un posizionamento sociale determinato in quel caso il punto vendita è un canale rilevante per trasferire quel tipo di valore dopo il canale c'è la parte di relazione se il canale rappresenta il cosa il negozio la relationship rappresenta il come che tipo di esperienza vivo in un apple store entro e autonomamente posso muovermi giocare con i prodotti e così via assolutamente sì e dall'altro punto di vista entro e posso essere coccolato dal venditore che mi racconta le caratteristiche dei prodotti e mi chiede di che cosa ho bisogno ecco tutte queste cose sono da mappare all'interno di questo blocco capite come questo strumento ci porti anche a fare delle domande a noi stessi e ad identificare degli aspetti che magari oggi noi diamo per scontati ma il fatto di metterli nero su bianco su questo oggetto ci impone un'analisi a volte anche più critica di quello che noi stiamo offrendo come modello di business e o come offerta questa è la parte destra passiamo ora alla parte sinistra quella interna quella che spiega come fanno a succedere tutte le cose che abbiamo raccontato fino adesso vi dicevo che questa tipicamente è la parte su cui tutti si sentono più forti perché è quella su cui tipicamente si investe anche di più perché le risorse le attività i partner sono tutte cose che devo pagare anche i canali in realtà perché una fiera di settore che è un canale non è gratuita e anche in quel caso quindi impatta da un certo punto di vista ma sicuramente una una sede un macchinario altamente costoso dei brevetti risorse finanziarie risorse in termini di risorse umane sono tutte cose che stanno in questa parte sinistra vediamole velocemente la prima parte è la parte di attività chiave la domanda è che cosa io devo fare affinché la value proposition quindi la colonna centrale che abbiamo visto prima esiste cosa devo fare affinché queste cose esistano e ancora cosa devo fare affinché i canali esistano e siano gestiti cosa devo fare affinché quelle relazioni esistano e attenzione che davanti a questa parola attività c'è quell'altra parola che si chiama chiave ovviamente per esempio la gestione delle paghe è un'attività che serve perché se non la faccio i miei dipendenti stanno a casa il giorno dopo li trovo a fare a fare sciopero davanti ai cancelli dell'azienda ma non è un'attività che sposta il mio modello di business fare le paghe bene o male nel momento in cui decida di mandarle all'esterno non le farò più io le farà un partner ma non sono quelle che spostano l'offerta di valore se sono un ufficio paghe ovviamente sì ma stiamo parlando di un'azienda in questo caso differente oltre alle attività ci possono essere delle risorse significa che alcune attività hanno bisogno di risorse chiave come vi dicevo prima per far sì che esista la value proposition esistano i canali o esistano le relazioni le risorse possono essere di diverso tipo prima facevamo alcuni esempi ci possono essere risorse fisiche una sede all'avanguardia un macchinario di ultima generazione una un canale quindi io posseggo un canale di comunicazione o di contatto con i miei customer segment e ci possono essere invece risorse intangibili come per esempio dei brevetti i brevetti sono una risorsa perché nespresso per esempio ha fatto del brevetto delle capsule un punto di forza per determinati anni e questo è indubbiamente un aspetto che impatta su gran parte del modello di business abbiamo visto anche le lotte che tante aziende fanno sui brevetti apple e samsung sono stati dei rivali su cui abbiamo letto articoli proprio legato a questo aspetto e poi ci possono essere risorse umane un particolare designer all'interno di un'azienda può essere una risorsa chiave una particolare figura all'interno di un team può essere una risorsa chiave pensate a quando si licenziano dei manager dalle grosse società di consulenza e dopo poco si portano via tutta la parte di sottoposti con i quali loro lavoravano accade accade molto spesso sono risorse chiave ed è importante per noi mapparle affinché noi possiamo monitorare quello che sta accadendo non tutto riusciamo a farlo in autonomia e in quel caso ci facciamo supportare da dei partner chiave quindi sono coloro che ci possono abilitare un determinato tipo di attività o di risorsa questo può succedere per ottimizzare dei modelli di business quindi per esempio per avere delle economie di scala io non mi metterò a produrre un determinato componente ma lo acquisterò da un partner perché se io dovessi produrlo dovrei ovviamente investire troppi denari e non avrebbe senso oppure posso ridurre dei rischi se esiste già qualcuno che è molto competente in un determinato contesto prima di farlo io può essere che abbia senso fare una partnership con lui e così via l'ultimo componente è quella di struttura di costo e non costi di struttura e qui la traduzione a volte può trarre in inganno è la struttura di costo questo significa fondamentalmente identificare quali possano essere i costi di tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora i partner sicuramente li dovremo pagare in qualche modo le attività avranno un costo le risorse avranno un costo i canali avranno un costo e a volte anche alcune tipologie di relazioni hanno un costo in questa fase non c'è ancora nessun numero è tutto puramente qualitativo quindi sarà un semplice elenco di quelli che sono i costi è ovvio poi che una persona che abbia un minimo di pancia imprenditoriale riesce ad identificare quando le revenue sono maggiori dei costi indubbiamente si può avere una stima anche solo intuitiva però poi successivamente a questo lavoro indubbiamente va fatta anche un'analisi più analitica andando ad esplicitare quelli che sono i numeri dietro al nostro business ma in questa fase ci si può accontentare di una parte puramente qualitativa anche perché in questo caso quello che noi stiamo mettendo sul nostro canvas sono delle ipotesi sono delle delle suggestioni che poi noi dovremmo andare a validare come si compone questo oggetto quindi nel suo insieme abbiamo visto come prima cosa che c'è un ordine quindi seppur noi siamo abituati a leggere da sinistra a destra abbiamo visto che in realtà il meccanismo con cui si compila questo oggetto parte dai customer segment e la motivazione per cui parte dai customer segment è molto banale se non sappiamo chi sono i nostri clienti e chi e come noi andiamo vendere a loro il nostro valore è impensabile pensare a tutto il resto come si compila questo oggetto questo oggetto si compila con i post it o quantomeno il consiglio che noi diamo sempre quello di compilarlo con i post it i post it consentono sintesi quindi sono piccoli per definizione quindi ci consente di fare un lavoro di di sintetizzazione magari di concetti molto elaborati che abbiamo in testa sono piccoli e quindi c'è poco spazio e questo ci obbliga ad avere un'abitudine che è quella di suddividere un post it un concetto sono mobili perché noi possiamo renderci conto che magari un customer segment può diventare un canale o un canale può diventare una risorsa o una value proposition può diventare una relationship e sono colorati il motivo del colore è abbastanza importante non perché a noi piacciono le cose ordinate come questo bellissimo quadro di mondrian ma in realtà perché il colore ci deve aiutare a leggere qualcosa nel modello di business questo per esempio questo business model canvas è un business model canvas dove il colore non ci sta dando nessun tipo di aiuto perché se voi guardate questi post it tutti gialli sicuramente se andiamo a leggere il contenuto avremo un'informazione ma se noi ci fermiamo qui a colpo d'occhio non stiamo avendo alcuna informazione in più grazie al colore perché i colori sono semplicemente all'interno dei building block quindi se già esistono i nove building block non mi aiuta nulla a vedere che nei partner ci sono dei post it verdi e credetemi non c'è alcuna relazione tra questo verde e questo verde oppure se vogliamo peggio ancora c'è questo tipo di segmentazione dove c'è più una sorta di confusione di colori piuttosto che una logica non sono né divisi per tipologia di building block né per altre logiche ve lo sto dicendo perché questi canvas li ho visti dal vivo e vi posso serenamente dire che non c'è stata una grande ottica di color coding cosa significa utilizzare il color coding significa che se io inizio a fare il mio lavoro con un customer segment e io vi consiglio vivamente di partire da un customer segment io dovrò compilare tutto il mio business model canvas con il medesimo colore e quindi se per esempio stiamo parlando di gazzetta dello sport un customer segment potrebbero essere i ragazzi che vogliono fare il fantacalcio qual è la value proposition di gazzetta dello sport per i ragazzi che vogliono fare il fantacalcio potrebbe essere il fatto che ci sono le pagelle dei giocatori il fatto che tu possa fruire delle pagelle sia sulla versione cartacea che sulla pagina web di gazzetta e da un'altra parte c'è un tema di credibilità del brand perché mi chiamo gazzetta e quindi quello che io racconto e do in termini di votazioni sono dei voti verosimili sto andando abbraccio ma semplicemente per fare un ragionamento con voi qual è la revenue stream la revenue stream se fosse i ragazzi che vogliono fare il fantacalcio l'offerta di fantacalcio qui la revenue stream potrebbe anche essere nulla nel senso che spesso e volentieri i ragazzi vanno online o guardano i voti al bar prima di andare a lezione lunedì mattina quindi in realtà io qua avrei un post it con scritto zero oppure potremmo avere invece dei ragazzi che hanno l'abbonamento a gazzetta o semplicemente acquistano il giornale quali sono i canali i canali abbiamo detto per esempio è il sito di gazzetta dello sport qual è la relazione con cui i ragazzi si interfacciano con questo valore da una parte c'è una relazione abbiamo detto di fiducia nei confronti di gazzetta dello sport e dall'altro andando online a guardarmeli io da solo senza dover chiedere niente a nessuno c'è una relazione che in gerbo viene chiamato il self service quindi io posso muovermi in autonomia è un po come se adesso vi facessi l'esempio della realizzazione di un bonifico fino a qualche anno fa voi dovevate andare in banca allo sportello per fare un bonifico oggi voi potete utilizzare il vostro token o qualsiasi altro strumento sul sito dell'home banking e fare un bonifico in modalità self service è importante ed è un valore per molti di noi sì perché significa che seduto dalla mia scrivania io posso effettuare un pagamento sempre con la stessa logica io proseguo e poi vado avanti identifico quali siano le attività quali siano le risorse quali siano i partner e quali sia la struttura di costo questo che vedete rappresentato su questo business model canvas è un modello di business gazzetta dello sport ha solo il ragazzo del fantacalcio come cliente no la risposta è no e allora che cosa faremo analizzeremo un secondo customer segment che in questo caso identificheremo con un altro colore ci dimenticheremo del ragazzo di 18 anni che vuole fare il fantacalcio e per esempio parleremo del sure mario che alle 10 del mattino va al bar sport e guarda le classifiche della serie c2 perché lui è alla ricerca del nuovo astro nascente che farà faville nella nazionale sto dicendo delle cose senza senso ma per farvi capire che parliamo di due customer segment diversi che hanno delle esigenze differenti e a quel punto sulla stessa logica compilerò l'intero canvas anche per il secondo customer segment il fatto di avere due colori diversi mi farà capire quindi quando io leggerò un post it se sarà un post it rosso sarà relativo a questo customer segment in particolare quello rosso e in questo caso al signor mario di che va al bar sport alla mattina alle 10 oppure saranno gialli nel momento in cui starò ragionando sul giovane ragazzo che desidera acquistare o comunque usufruire di gazzetta dello sport per godere del fantacalcio queste sono le due grosse distinzioni e quindi anche la logica di colore aiuta in questo caso a mappare diversi modelli di business quindi prima abbiamo visto un modello di business di un certo customer segment e poi abbiamo visto un secondo modello di business di un altro customer segment ovviamente posso sovrapporli questi due e quindi avrò una mappa più arricchita con entrambi i modelli di business l'invito è quello di provare ad utilizzare questo strumento noi crediamo che in questo momento storico sia fondamentale per un'azienda sapere avere consapevolezza di quale sia il proprio modello di business perché in questo momento storico per impatti esterni qualcosa sta cambiando a noi per esempio sono cambiati i canali è cambiata la relazione e questo ci ha imposto in pochi giorni a ridisegnare alcune nostre attività come quella che state vivendo adesso io questo corso l'ho sempre fatto live l'ho sempre fatto con di fronte delle persone ingaggiando domande risposte e ponendo come value proposition anche l'energia che si può portare in un'aula per tenere le persone attive e in questo caso abbiamo dovuto ridisegnare il contenuto ripensare all'offerta per poter veicolare questo contenuto in questo caso a voi che mi auguro abbiate appreso un qualcosa di nuovo e che soprattutto dopo questo video vi mettiate al lavoro utilizzate un business model canvas per effettuare almeno una prima fotografia di quello che è il vostro attuale modello di business identificandone quali sono i punti di forza ancora validi e quali sono i punti di debolezza a fronte del cambiamento che state vivendo l'invito è quello di seguire l'iniziativa di happy to help e al sito che vedete indicato nella slide quindi www innovation a trattino lab punto it slash blog slash happy to help trovare tutto l'elenco di coach facilitatori consulenti trainer che saranno ben disposti nell'offrire il loro il loro tempo per potervi aiutare nella ottimizzazione di quello che sarà il vostro nuovo modello di business a fronte di questo grande cambiamento io vi ringrazio spero di essere stato utile nella vostra crescita nella vostra evoluzione e l'augurio è di uscire da questa situazione sempre più forti sempre più convinti con dei business mutati ma comunque vincenti un augurio a tutti un buon lavoro e grazie da daniele